Molti mi hanno sempre chiesto se ciò che faccio lo faccio per passione o per lavoro. Se tutte le belle foto e i bei video li faccio per motivi insensati. Ma quelli che molti non sanno è che io amo ciò che faccio e che questo è solo l'inizio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.